Stanno sparando addosso! Fate attenzione! Tocca a te! Non mettermi fretta, mi piace pensare. Che cosa c'è da pensare? Un sacco di... No no, dai, vi arrivo! Mettetevi al riparo! Mi sentiamo che mettete i piedi! È al riparo lì dietro! Muotersi! Muotersi! Settiamo! Mettetevi! Settiamo! 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 il movimento attenti a dove mettete i piedi è qui da qualche parte muoversi non riesco è il fondo è quello che fai sono c'è